Siamo un po' stretti però, la musica arriva dappertutto. Siamo un po' stretti. Siamo un po' pieno, non è uno stadio, è un pazzito dello sport però. Anche le scalinate però dovrà essere un ottimo, la galleria. Allora come ho detto, come dicevo prima, sentirete il nome di Shiva, di Sarasvati, tutte divinità. Così, venerate nella parte dell'India perché questa è musica sacra, tramandata, perveda. E quindi la proposta nostra è di associare alle note musicali queste ripetizioni che si chiamano mantra e sono formule, chiamano formule trascendentali perché comunque vanno ad attivare all'interno, una volta che entrano dalle orecchie, entrano dentro e vanno ad attivare dei codici di conoscenza che comunque abbiamo dentro e vanno risvegliati. Quindi è una scienza sacra, si chiama nada yoga, yoga del suono. Quindi cominciamo. Grazie. 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 Abbiamo sentato Shiva e adesso facciamo l'aspetto femminino, la bipolarità Shiva-Shakti e la sorgati Amuduruga, una delle divinità più importanti dell'aspetto mistico dell'India, sono stati tante volte e in tanti tempi appunto dedicati a Duruga, dedicati a Shiva, quindi sono tutti questi si chiamano Mah Mantra, grandi mantra, cioè le grandi invocazioni della cultura Vedica. Quindi l'aspetto della musica, come già detto, trascendentale, cioè che va a stimolare i nostri centri sottili e a lavorare profondamente dentro di noi, attivando i codici di conoscenza che normalmente ne sonnecchiano nell'oblio e nella dimenticanza, per cui noi attraverso queste formule, chiaro che questo è un assaggio, è un concerto, però attraverso le esperienze che ho maturato con i maestri, la mia pratica è continua, è costante, allora sì che c'è un lavoro vero di trasformazione. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti